Ben trovati all'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana. Come vi avevamo anticipato nella scorsa puntata entriamo all'interno del palazzo del Pegaso nell'aula che si è riunita il 14 di settembre. Tutti i consiglieri muniti di cream pass si sono riuniti appunto per confrontarsi su un argomento che era rimasto in sospeso dall'estate. Pertanto ecco i titoli. L'argomento rimasto in sospeso era l'edilizia residenziale pubblica, sì alla nuova legge toscana con 23 voti a favore e 11 astensioni. E poi si parla di una protesta a Novax che si è tenuta proprio per strada in via Cavour sotto l'aula del consiglio regionale. Le loro minacce non ci fanno paura dice Mazzeo e poi parte l'anno scolastico in presenza e arrivano anche appunto gli auguri in buca al lupo agli studenti. Quindi andiamo per ordine e iniziamo a parlare di quello che è l'argomento importante che ha caratterizzato tutta la seduta d'aula del 14 di settembre. L'aula di palazzo del Pegaso quindi ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato dopo un lungo dibattito è stato approvato con 23 voti a favore e 11 astensioni dopo aver trovato la sintesi di un emendamento dove c'era la prima firmataria Elisa Montemagni sottoscritta anche dal presidente del gruppo del PD Vincenzo Seccarelli che prevede l'obbligo per i cittadini che non autocertificano residenza fiscale in Italia di presentare una documentazione reddittuale e patrimoniale del paese in cui hanno una residenza fiscale. Ascoltiamo i consiglieri. Intanto la Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50 mila alloggi, già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi, dove troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti, quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza e quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero, perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero, quindi per il principio di equità, così come lo dimostrano i cittadini italiani, ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri per poter avere una casa popolare in Toscana dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza. Abbiamo voluto e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nel lavoro di aula, in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catastri degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no diciamo legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana, in particolar modo nelle città toscane. Ma è una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione, si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale, noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo me è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda e che noi abbiamo sbagliato e ripetuto, quindi bene che venga cancellato, siamo meno d'accordo invece con le primialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare, quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose, soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti, anche case popolari sfitte, senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno. E' tempo di ridare alle persone la libertà e quella libertà passa attraverso la vaccinazione. Sotto il Consiglio regionale martedì 14 settembre durante la seduta d'aula si è riunito il gruppo di Novaks, ne ha parlato il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, anche alle nostre telecamere. E' giusto che ognuno possa esercitare il proprio diritto al dissenso, ha dichiarato. Offese, insulti, minacce, svastiche naziste e istigazione alla violenza però non sono tollirabili. Le minacce non ci fanno paura. Il Presidente poi si è soffermato anche sul nuovo regolamento interno, approvato dall'Ufficio di Presidenza che inserisce l'obbligo del Green Pass per l'accesso in presenza all'ora da consigliare, alle commissioni, a tutti gli eventi istituzionali che saranno organizzati all'interno del Palazzo. Proprio sull'argomento Green Pass, siamo al 14 quindi ancora non si era espresso in modo specifico il Governo, ascoltiamo il parere di alcuni consiglieri oltre a quello del Presidente della Regione. Era un impegno che avevo preso, credo che noi per primi dobbiamo dare segni di responsabilità verso l'esterno e sono contento che tutti i colleghi oggi presenti in Consiglio regionale e abbiano partecipato utilizzando il Green Pass. In quel regolamento siamo andati un po' oltre, diciamo che tutte le riunioni che vengono effettuate all'interno del Consiglio regionale, chi parteciperà dovrà essere munito di Green Pass. Credo sia una delle posizioni più avanzate in questo momento, ringrazio tutti i gruppi politici per aver supportato questa proposta e credo che ognuno di noi deve fare la sua parte. Il tempo di ridare alle persone è la libertà e quella libertà passa attraverso la vaccinazione. Qui sotto c'è una manifestazione da parte dei Novax, devo dire che è giusto che ognuno possa esercitare il proprio diritto al dissenso, ma non con insulti, minacce. Ho visto dall'altro anche un segno che è rappresentativo della furia nazista e paragonare i vaccini che sono libertà a quel simbolo è qualcosa davvero di sgradevole, di grave, ma noi non ci fermiamo. Le loro minacce non ci fanno paura. Penso che oggi noi abbiamo un grande compito, che è quello di cercare di restituire ai cittadini la piena libertà e può passare solo attraverso i vaccini. Vi questa settimana ci sono stati 23 persone che purtroppo sono andate in terapia intensiva. Di queste persone 20 non erano vaccinate e diversi di loro avevano meno di 40 anni. Ecco, io penso che questo, se i numeri parlino, continuo, noi dobbiamo continuare con forza questa campagna vaccinale e non saranno certo le urla o le minacce qui sotto che non ci faranno andare avanti, spediti in questa direzione. Allo stato attuale però devo prendere atto e devo ringraziare il Presidente Draghi per la serietà e la coerenza con cui sta analizzando una per una tutte le varie fattispecie e rendendo il Green Pass sempre più esteso e quindi un vero stimolo al vaccinarsi delle persone. Io dico comunque che fra provvedimenti nazionali e quelli regionali tutti coloro che non l'hanno fatto, vadino a vaccinarsi. Oggi è semplicissimo, tutti gli hub sono liberi, non c'è bisogno di prenotazioni. Vadino a vaccinarsi e lo facciano per i loro bambini dai 12 ai 16 anni. Anche perché magari ora che abbiamo abbassato il livello pandemico e siamo in una situazione sempre più normale, magari non ci se ne rende conto. Ma ricordatevi l'anno scorso quando fu proprio l'inizio di ottobre a segnare una crescita esponenziale che ci portava nei primi mesi di novembre ad avere 60-70 morti il giorno, 16.700 contagi in una settimana in Toscana. Ecco, pensateci ora perché il vaccino ora a metà settembre è quello che previene, quello che può accadere nel momento in cui il virus ha dimostrato di avere la massima capacità di espansione, ovvero i mesi d'ottobre e novembre, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso. Sì, io condivido l'accelerazione del Presidente, l'accelerazione anche del Governo, mi pare, il Presidente si muove sulla linea del Governo. Il Green Pass è una misura di libertà per tutti, per permettere di fronte a un'ipotesi che però non è peregrina di riaumento dei contagi con la riapertura delle scuole, con il clima che ci imporrà di stare chiusi nelle stanze, nei ristoranti, nei luoghi di incontro. Ci può essere, noi speriamo di no, ma è evidente che va tenuto conto un aumento dei contagi e allora la vaccinazione è l'unico strumento per garantire un inverno senza nuove chiusure, che nessuna categoria economica si può permettere e neanche da un punto di vista sociale e civile. Noi sappiamo che cosa ha voluto dire per la scuola, per i ragazzi, quindi il Green Pass è uno strumento di libertà, non di costruzione della libertà. Siamo a favore del fatto che tutti i dipendenti pubblici e nei luoghi di lavoro debba essere esteso quanto prima, siamo anche disponibili all'obbligatorietà, qualora entro settembre noi non risolviamo questa questione. Ormai siamo su un livello soglia, per cui chi voleva si è vaccinato, chi poteva si è vaccinato, rimane il problema di chi non può e quindi l'obbligo oggi è un atto dovuto nei confronti di coloro che non possono. Vediamo come queste nuove misure, per esempio sui luoghi del lavoro, sui dipendenti pubblici, su tutta una serie di misure, possono aumentare il livello dei vaccinati. Noi dobbiamo arrivare a un livello soglia perché è evidente che ciascuno di noi ha diritto e dovere di togliersi questa mascherina, i ragazzi hanno diritto e dovere di andare a scuola, di fare attività culturale e sociale, le imprese hanno diritto e dovere di lavorare e le persone hanno diritto e dovere anche di essere salvate. Se andiamo a vedere che poi coloro che vanno in terapia intensiva sono coloro che non sono vaccinati, il compito e il dovere starà a noi che abbiamo un carico istituzionale di curare e mettere in condizioni anche loro di salvarsi. Se il provvedimento è quello di contenere i contagi, assolutamente no, perché il Green Pass, possedere un Green Pass non significa essere fuori dalla possibilità di contagiare persone da Covid-19, perché una persona che ha completato il ciclo vaccinale, faccio un esempio, tre mesi fa, oggi è in possesso di un Green Pass e in questi tre mesi potrebbe aver contratto beatamente la malattia, aver infettato altre persone. Se l'obiettivo è quello di costringere le persone, esasperandole con i costi dei tamponi, il business dei tamponi, perché a fronte di qualche struttura convenzionata ce ne sono decine che oggi vendono i tamponi anche a 40 e 50 euro, se l'obiettivo è quello di esasperare le persone e di fatto spingerle a un obbligo vaccinale che non si ha il coraggio di voler istituire per legge, allora il Green Pass è sicuramente lo strumento migliore. Il 15 settembre, primo giorno di scuola e allora i due presidenti mazzaleggiani parlano dell'avvio in presenza dell'anno scolastico 2021-2022. Ascoltiamo le loro dichiarazioni perché augurano anche un buon lavoro ai docenti scolastici e a tutti gli studenti toscani, ovviamente anche noi facciamo un bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti i professori. Innanzitutto un grande in bocca al lupo a ciascuno di loro, io penso che il segnale più importante sia che si riparte tutti in presenza, che si riparte cercando di non chiudere più, è questo l'obiettivo che noi abbiamo. Io voglio ringraziare di cuore tutti gli insegnanti per quello che hanno fatto in quest'anno e mezzo difficilissimo, però voglio anche dire che per quanto si siano impegnati la didattica a distanza è comunque una grande forma di disuguaglianza, non è possibile che ci siano ancora tanti ragazzi che non hanno la connessione o tante famiglie, purtroppo, che non possono permettersi di avere un pc per ciascuno dei propri figli. Allora il nostro compito è fare in modo che il 5G arrivi dovunque, in tutti i territori della Toscana e che non ci siano più immagini come quel bimbo seduto su un banco a cercare la connessione. Per noi la Toscana e i diritti dei cittadini toscani devono essere uguali, da Zeri fino a Firenze e questo è quello su cui dobbiamo lavorare. L'impegno deve essere quello di continuare a investire sempre più nella scuola pubblica e noi faremo la nostra parte. E alle ragazze gli mando un messaggio, noi siamo riusciti a ristorare tante categorie in quest'anno e mezzo, purtroppo non abbiamo la forma per poter ristorarli da quest'anno perso, quest'anno e mezzo di socialità mancata. Ecco, l'impegno verso di loro è che quello che è accaduto non accada più e che i loro sguardi si possano rincontrare di nuovo e quel pezzo di socialità che gli è mancato possa essere recuperato il più velocemente possibile. Agli studenti faccio un grande in bocca al lupo per quello che sarà la loro attività quest'anno e l'augurio che la didattica in presenza possa allontanare quegli spettri che anche da un punto di vista di condizione sociale, psicologica, individuale sappiamo ha lasciato la DAD e quindi il modo con cui abbiamo dovuto far convivere la scuola con la pandemia. E per questo appuntamento è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti, per gli approfondimenti c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it Grazie per averci seguito, l'appuntamento è tra sette giorni sempre qua, dentro il consiglio. Grazie. Grazie. Grazie.